Bentornati al Tg7, agricoltura in ginocchio a fondi per l'eccezionale ondata di gelo che sta colpendo gran parte d'Italia. Il sindaco di Fondi Salvatore De Meo esprime solidarietà a nome dell'amministrazione comunale agli agricoltori della Piana di Fondi. Il settore agricolo della nostra Piana, che rappresenta una delle principali voci di esportazione della provincia di Latina, sta attraversando una fase drammatica, afferma il primo cittadino. Considerato che le coltivazioni in campo aperto sono irrimediabilmente danneggiate, risultano a rischio anche diversi aranceti. Per quanto riguarda le colture in serra, interi raccolti di zucchine e verdure sono ormai andati in rovina, nonostante il riscaldamento H24 dei ambienti di coltura, che sta comportando anche un raddoppiamento dei costi per il carburante. Mi sono rapportato immediatamente con il direttore della Coldretti di Fondi, Lino Conti, che mi ha testimoniato la gravità della situazione e aggiornato sugli interventi che gli associati hanno messo in atto per supportare gli agricoltori in difficoltà. In tal senso si è attivato anche il sindaco Salvatore De Meo, che nei giorni scorsi ha inviato una nota all'assessore regionale all'agricoltura Carlo Hausman, per invitare, a fronte della situazione critica, all'adozione di misure eccezionali a tutela degli agricoltori. I danni ammontano da una prima stima elaborata sulla base delle segnalazioni finora raccolte dalle federazioni provinciali della Coldiretti a decine di milioni di euro. La Coldiretti ha così chiesto alla Regione Lazio di attivare la procedura per la dichiarazione dello Stato di calamità naturale, anche per ottenere condizioni agevolate per il credito agrario e l'esonero parziale dei contributi providenziali e assistenziali che gli imprenditori e dei loro dipendenti. Chiediamo ai comuni colpiti dalle avversità, come anche all'amministrazione provinciale dalla Coldiretti di Latina, di inoltrare in Regione analoga sollecitazione per sostenere l'istanza del settore produttivo agricolo, anche con la forza delle singole realtà territoriali. E restiamo in argomento perché è allerta meteo in provincia di Latina, dove alle prime ore di oggi, venerdì 13 gennaio, per le prossime 18-24 ore, sono previsti venti forti occidentali con raffiche di burrasca, mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da frequenti attività elettrica, con nevicate previste dal primo pomeriggio di oggi a quote superiori ai 500 metri. La notizia proviene dall'ufficio territoriale del governo di Latina, che invita gli enti e gli organismi interessati a predisporre le necessarie misure di sorveglianza e prevenzione nelle aree a maggior rischio. In caso di emergenza è possibile contattare l'ufficio a qualsiasi ora del giorno al numero telefonico 0773 6581 o tramite le radiocomunicazioni che potrete trovare sul nostro sito internet tvcanale7.it. E parliamo di sanità. Il consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Simeone, ha inoltrato una nota al presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, in cui chiede l'integrazione dei 565 precari tra medici, infermieri e tecnici operanti nelle strutture pontine ingiustamente esclusi. Il presidente Zingaretti si legge dalla nota in qualità di commissario ad acta per la sanità nel Lazio proceda a riparare all'evidente errore commesso con l'esclusione dalla stabilizzazione del personale precario dell'ASL di Latina. E prosegue. Con questo obiettivo ha depositato una seconda interrogazione a risposta immediata in consiglio regionale, chiedendo quali siano le azioni ed i provvedimenti che, con estrema urgenza, si intendano porre in essere per far sì che i precari dell'ASL di Latina e delle altre ASL del Lazio, illegittimamente ed ingiustamente esclusi dal processo di stabilizzazione, vengano nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali ammessi alle procedure di stabilizzazione. A sollevarsi anche la voce del senatore Claudio Fazzone, che dichiara l'esclusione dal processo di stabilizzazione avviato dalla regione Lazio dei precari che da decenni operano nella sanità pontina, è, a dir poco, inaccettabile. In questo contesto ho presentato una interrogazione urgente ai ministri della Sanità per gli affari regionali e autonomie del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per chiedere quali siano le ragioni ed i criteri in base ai quali la regione Lazio abbia ritenuto di escludere i precari dell'ASL di Latina dal processo di stabilizzazione. Ho chiesto con quali provvedimenti e azioni intendano intervenire. L'esclusione dei soli precari dell'ASL di Latina, continua il senatore, viola il principio di eguaglianza costituzionalmente garantito e conclude il tutto in una situazione, quella in cui versa la sanità nel Lazio e nella provincia di Latina, dove le croniche lacune superano di gran lunga i servizi in cui gli ospedali sono oggetto di costanti depotenziamenti e sottrazione di servizi ai cittadini, come evidenziano le quotidiane, strutturali emergenze che caratterizzano tutti gli ospedali della provincia di Latina. Anche in questa occasione si fa finta di non vedere. Espostiamoci all'Enola, dove il Comune interviene a sostegno delle famiglie meno abbienti. Grazie a un provvedimento dei servizi sociali sono stati infatti stanziati complessivamente 3.500 euro circa per far fronte alle difficoltà economiche delle famiglie. Le somme sono state impiegate per il sostegno della bolletta dei rifiuti latari, per l'acquisto di blocchetti per la mensa scolastica e ancora per il trasporto scolastico. Altre somme si sono rese necessarie per la realizzazione di un progetto di inserimento lavorativo seguito dai servizi sociali e su richiesta dei centri sociali per il pranzo natalizio. E restiamo all'Enola, dove l'8% delle somme riscosse dal Comune per gli oneri di urbanizzazione sarà impiegata nei lavori di manutenzione e restauro della parrocchia di Santa Maria Maggiore. La somma, che ammonta a circa 3.000 euro, sarà reinvestita a favore del complesso parrocchiale, secondo quanto previsto da una legge regionale risalente a 27 anni fa. Sarà il dottor Daniele Turco Livieri, il revisore dei conti dell'ente parco regionale dei Monti Ausoni. La sua nomina è giunta a seguito del vaglio dei diversi curricola giunti alla regione nei giorni scorsi. Turco Livieri, originario di Aprile, è già revisore dei conti del Comune di origine, è revisore legale al Consorzio Industriale Roma Latina, è esperto di diritto societario, consulente in tema di contenzioso giudiziario in tema di anatocismo bancario presso il Tribunale di Latina. Al fianco di Turco Livieri è stato nominato in qualità di revisore supplente Roberto D'Amico. La carica sarà ricoperta per tre anni, a partire dalla data della pubblicazione del decreto di nomina. Andiamo a Monte San Biagio, dove sono in arrivo i fondi regionali per l'acquisto di libri di testo riservati a 16 beneficiari. La somma totale, che ammonta a 3.425 euro, sarà utile per il pagamento dei libri acquistati nell'anno scolastico 2015-2016, un contributo all'istruzione per quelle famiglie meno abbienti, grazie al quale sarà loro garantito il diritto allo studio. E passiamo agli eventi. Proseguono le iniziative di 80, ma non li dimostra, la ricca serie di appuntamenti per festeggiare l'ottantesimo anniversario del liceo classico linguistico Piero Gobetti di Fondi. Nella mattinata di ieri, 12 gennaio, nella palestra dell'Istituto, l'incontro con gli ex-docenti e gli ex-alunni del liceo. Nel corso dell'incontro sono intervenute due degli ex-presidi del liceo e il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, Gildo De Angelis. Ai nostri microfoni l'ex-preside del liceo, Maria Luigia Marino. Siamo con Maria Luigia Marino, docente ed ex-preside del liceo classico linguistico Piero Gobetti. Che effetto fa a distanza di anni tornare nel liceo? Sicuramente una grande emozione, perché io sono andata via nel 2010 e soprattutto considerando che io potrei essere al momento la storia vivente del liceo, perché l'ho frequentata da alunna quando il liceo era ginnasio e dipendeva dall'amante. Poi sono stata qui nel grande processo di transizione dopo il 68, tra gli anni 70 e 75, in cui il ginnasio divenne liceo, ma dipendeva praticamente da formia. Nel 75 finalmente avemmo l'autonomia e quindi ho vissuto in prima persona come docente le accesissime assemblee, perché i decreti delegati c'erano stati l'anno prima, 1974, e dove la partecipazione degli alunni a seguito anche del 68 vedeva spesso schierati ideologie diverse e contrapposte di sinistra e di destra. Ma in democrazia anche i contrasti accesi sono importanti e proprio in una di queste assemblee infuocate venne fuori il nome di Piero Gobetti a questo liceo. Poi sono stata qui tanti anni, per 23 anni ho insegnato, per 18 ho fatto la vicepreside, ho partecipato a tutti i consigli d'istituto e poi sono ritornata nel 2003 come preside. Proprio quest'anno il liceo classico compie 80 anni? Compie 80 anni e bisogna dare atto agli ex-alunni che dieci anni fa noi commemorammo il settantesimo. Alla fine della serata, con un'improvvisazione dell'avvocato Martellucci, tutti gli ex-alunni firmarono per la costituzione di questa associazione. Compie 80 anni e diciamo che non li dimostra perché il liceo ha saputo anche adeguarsi ai tempi. Io non voglio essere assolutamente una persona che loda il tempo passato, ma a volte qualche rimpianto c'è perché se autonomia ci deve essere, l'autonomia deve avere una mission, è una mission costante, non schizofrenica, perché io ritengo che la scuola è come una grandissima orchestra. se ogni strumento si collega con un altro, creano un'armonia perfetta. Ascoltiamo anche le parole del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, Gildo De Angelis. Siamo con Gildo De Angelis, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio. Quest'anno il liceo classico Gobetti compie 80 anni. Sì, compie 80 anni. Sono felice di essere qui perché bisogna festeggiare le ricorrenze degli istituti che sono nati tanti anni fa e che continuano ancora a dare insegnamento e fornire quell'istruzione ai nostri ragazzi che servono tanto nella vita e che servirà per proseguire nella vita successiva alla frequenza della scuola. Il classico è importante, io lo ripeto sempre, non vorrei sminuire gli altri indirizzi che vengono frequentati, ma comunque la formazione che ti dà il liceo classico penso che non te la possa dare nessun altro indirizzo e quindi il Gobetti deve rimanere. Io mi sono impegnato perché rimanca ancora con l'autonomia e speriamo veramente di poter raggiungere quell'autonomia completa che tanto serve a un'istituzione scolastica per funzionare bene. Per la pagina sportiva occhi puntati sulle ragazze della Vis Fondi che militano nel campionato di Serie A di calcio a 5 femminile. Dopo la sconfitta interna della settimana scorsa le atlete allenate da Emilio Cibelli sono chiamate ad una risposta immediata e soprattutto d'orgoglio nella trasferta di domenica 15 a Roma contro l'FB5 Team Rom. Le Rosoblu, ancora orfane della Saraniti che è in netta ripresa dopo il grave incidente di fine novembre occupano in questo momento con 24 punti la terza posizione in classifica proprio in coabitazione con le loro avversarie e con il Ciampino. Domani invece, sabato 14 gennaio ritorna il calcio a 5 con la Serie B che vede impegnate nel girone E le due squadre fondane della Gymnastic e della Virtus. La prima gioca in casa alle 16 contro la squadra Ciociara del Ferentino. Dopo la partita rinviata per motivi meteorologici contro il Benafro i ragazzi del presidente Biasillo devono realizzare una grande prova vista la posizione in classifica degli sfidanti sotto di soli tre punti. La Virtus, dopo la sconfitta interna subita nell'ultima partita di campionato fa visita al Marigliano in quello che è già uno scontro salvezza. I rosso-blu sono penultimi in classifica a 16 punti in uno e meno dei campani. In C1 la Virtus, la Visfondi del duo stravato di Vezza va ad Albano per la gara contro l'ultima in classifica. I rosso-blu si affidano alle prodezze del portiere napolitano e all'estro di Di Martino e compagni. In C2 il Real Fondi va in trasferta contro il Real Stella come anche l'atletico Sperlonga che giocherà sul campo del Marina Man Ranola a Formia. E passiamo al calcio A11 suggestiva amichevole quella che si giocherà domani allo stadio Francioni tra il Latina Calcio ed il Fondi. La squadra del nostro capoluogo che milita nel campionato di Serie B ha programmato già da tempo questa gara che rientra nelle previsioni del programma settimanale stilato dal mister Vivarini. Il Fondi ne approfitta per preparare al meglio la gara di lunedì 23 gennaio che rappresenta la ripresa del campionato di Lega Pro contro il Catania al Purificato. Nell'atina farà il suo esordio il nuovo acquisto Roberto Insigne fratello del più famoso Lorenzo che gioca con il Napoli. Questa edizione del TG7 termina qui. Per segnalazioni e suggerimenti potete contattarci alla nostra mail redazionechiocciolatvcanalesette.it o sulla nostra pagina Facebook Canale 7. Potete inoltre continuare a seguirci sul nostro sito internet tvcanalesette.it Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulla nostra rete.